What's up guys, sono Thunder e benvenuti in questo nuovo video. Come sapete ragazzi, la sigla ufficiale di My Hero Academia, cantata da Giorgio Vanni, ha riscosso molto successo, ma allo stesso tempo molto hating. Oggi però non discutiamo di questo. Ma bensì ho il triste dovere di annunciarvi che la sigla di chiusura o ending, come preferite, non sarà esclusivamente disponibile. Infatti ragazzi, il team di Mediaset Italia 2 ha ritenuto opportuno riproporre la sigla di apertura come quella di chiusura, cambiando soltanto il videoclip in sottofondo. Non sono molto d'accordo su questa decisione, ma in fondo la possibilità che facessero una ending italiana era a parer mio sotto il 20%. E per non scazzare mettendo appunto un ending giapponese, hanno optato rimettendo l'opening. Vabbè ragazzi, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate riguardo a questa decisione per la ending di My Hero Academia. Il breve video informativo di oggi finisce qui. Vi ricordo comunque come sempre di lasciare un like, un commento ed iscrivervi al canale. Da Thunder è tutto. Bella! Ciao!